Buonasera amici e amiche di www.coppiaperte.com Noi siamo la coppia numero 26, io sono la Valerie, chiaramente è un nome di fantasia, altrimenti a lavoro mi potevano giudicare E lui è mio marito Fabio Baldieri, lavora l'Enel da 15 anni, gli mancano due gradi dall'occhio destro e uno dall'occhio sinistro Ah già, mio marito, solo per me, in un momento di passione, ieri, si è fatto mettere anche il vibratore Ma quando volevi? Noi siamo due persone aperte, libere, virichine L'altra sera abbiamo fatto anche lo scambio di coppia con la Luise e con Renato Amore per tutta la notte, a me è piaciuto tantissimo A me è correnato un po' di meno A me piace tanto il sesso strong, l'altra notte gli sono saltata addosso forte, ma così forte che le doghe del letto schricchiolavano tutte Sì, doghe, e regossole Io sono goderezza, per me il sesso quattro volte al dì Due volte ce sto pure io L'altro giorno al mio sprugolino ho organizzato una festa sorpresa, un'orgia, trenta uomini e una donna E quella donna... Ero io! A me piace molto anche fare l'aperi sesso, l'aperitivo con lui E il sesso con altro! L'altro giorno però l'abbiamo fatto insieme, io sopra e lui sotto, l'ho cosparso tutto di olive e le ho prese a una a una E lui lì, a ogni olive un grido, sempre a lamentarsi Adesso cinque live, tre volte mi ha prese le balle! Bene, amici e amiche di www.copiaperte.com Il nostro tempo è scaduto e ricordatevi Se vi piace il sesso convolgente, passionale, travolgente, chiamatemi Se vi piace il sesso rude, violento e cattivo, chiamate il 338-6123-45 Ma è il numero mio! Zitto! Devi stare zitto! E adesso, solo per te, ti frusto, ti picchio, ti lego e tu, tu che mi fai? Ti amore vedo! Vecchi e valvieri! Bravi!